Con una cerimonia solenne è stata ricordata ieri la battaglia della Meloria che 738 anni fa vide fronteggiarsi la flotta pisana con quella genovese. Era il 6 agosto 1284 quando alle secche della Meloria si svolse lo scontro tra la flotta della Repubblica di Pise e quella della Repubblica Marinaria di Genova, un giorno in fausto che diede inizio al declino della potenza pisana e che a distanza di 738 anni viene ancora ricordato. Nonostante i presagi favorevoli, infatti, la battaglia fu combattuta nel giorno di San Sisto, giorno in cui si celebrano le vittorie militari di Pisa, l'esito fu disastroso, moltissimi morti, quasi 10.000 prigionieri che dovettero attendere 15 anni prima di tornare in patria. E la celebrazione che ogni anno si svolge a largo, proprio dove le galè pisani affrontarono quelle genovesi, ha lo scopo di celebrare le vittime e i prigionieri di quel disastro militare. Ricordiamo tutti i caduti pisani in tutte le guerre e lo facciamo con la tradizionale lancio della corona d'alloro in mare aperto, proprio di fronte alla torre della Meloria. Questo incontro è promosso da un cartello d'associazioni, associazioni di mosaico, Archeoclub, Accademia degli Uniti, Lega Navale, associazioni marinai d'Italia e amici di Pisa. Perché ricordare serve in qualche modo a capire da dove veniamo e a guardare anche il futuro con una certa prospettiva. Ieri l'altro siamo stati a Genova, a Campopisano, abbiamo commemorato i nostri caduti e queste manifestazioni si svolgono con il patrocinio del Comune di Pisa e del Comune di Genova. E oggi siamo qui ospiti del porto di Pisa e la nave, diciamo, Commodore, quella che praticamente porterà l'autorità, è la motovidetta della Capitaneria di Porto. La Capitaneria di Porto di Livorno, presente a questa celebrazione sin dalla prima edizione, vuole sottolineare con la propria presenza l'importanza che ha avuto nel passato per la nostra tradizione marittima italiana e anche per tutto quello che significa oggi la libertà dei mari, che all'epoca, come oggi, è garantita attraverso la libera fruizione dei mari da parte dei marittimi. Quindi oggi con questo noi intendiamo sottolineare ancora gli stessi valori che all'epoca hanno garantito a chi ci ha preceduto in questo mestiere di portare avanti le tradizioni del mare, la cultura, le conoscenze. E testimone di questo è il fatto che ancora oggi sulla bandiera della marittima italiana, così come quella della bandiera mercantile, è presente sia agli stemmi di Pisa, ma anche delle altre tre repubbliche marinare, di Genova, di Venezia e di Amalfi, proprio al ricordo delle glorie e dell'importanza che queste hanno avuto per la civiltà occidentale, garantendo i commerci e i traffici marittimi, che come vediamo ancora oggi sono il cuore delle nazioni moderne. Ringrazio l'associazione Nel Mosaico che con Riccardo Buscemi ha organizzato, organizza da diversi anni, insieme anche all'associazione Marinai d'Italia, alla Capitaneria e tutti quanti che collaborano a questa rievocazione. Un ricordo di quella antica battaglia sulla quale ci furono anche tanti caduti. In un momento come questo, dove la guerra fervora all'interno dell'Europa, sicuramente è un momento di grande riflessione. della Lega Navale, spero di non aver vincitato nessuno se lo fate.